Altra grande di scena il 21 settembre per la settima giornata del girone di ritorno, la Ternana, candidata alla promozione e formazione che annovera tra le sue fila calciatori dal passato ragguardevole. Nel precedente turno di campionato gli Umbri avevano subito una sconfitta sul campo del Bisceglie, mentre i Biancazzurri dal Canto Loro erano reduci da un pareggio esterno sul campo della Maceratese e da una buona serie positiva che li vede proiettati verso una meritata salvezza. Interessi contrapposti quindi in campo in una giornata rigida per la neve caduta nei giorni scorsi. Assenza di rilievo tra le fila del Matera e quella del capitano Innella, colpito da lutto familiare per cui all'inizio della gara si è assistito al rituale minuto di raccoglimento. Quasi a voler imporre il loro gioco i Rossoverdi Umbri partono subito in avanti con trame di gioco ragionate e sorrette da indubbia tecnica, ma il Matera si mostra ben attento in difesa e non si lascia sorprendere. Nella prima mezz'ora le azioni di gara ristagnano prevalentemente nella zona di centrocampo dove si mettono in evidenza Bottalico ed Ardizione per il Matera ed Amico e Graziane per gli ospiti. Rare le conclusioni a rete come quella di Brescia al 31esimo direttamente sul calcio di punizione battuto dalla sinistra. Il tiro della mezz'ora va a lambire il palo alla destra di Foti. Al 37esimo è invece chiamato al suo primo intervento anche Mancini e lo fa bravamente uscendo sui piedi di Ravot pronto a sfruttare un passaggio smarcante del solito d'amico. Primo tempo quindi tranquillo sotto il profilo delle emozioni e risultato di parità scontato. All'inizio della ripresa l'allenatore Materano tenta la carta sorpresa fuori un centrocampista Ardizione e dentro una punta pugliese nel tentativo di dare più propensione offensiva alla sua squadra. Ma è la Ternana che si porta inaspettatamente in vantaggio al quarto minuto con Ravot pronto ancora una volta a raccogliere al di là dei difensori materani un passaggio smarcante questa volta di Eritreo. L'ala rosso-verde giunto solo davanti a Mancini non trova alcuna difficoltà a realizzare la rete del vantaggio. Risponde il Matera all'ottavo su azione susseguente a calcio di punizione con Pugliese che tenda la conclusione acrobatica. La sfera sorvola la traversa. Al 22esimo gli Umbri chiudono praticamente la gara con Torisi che con un preciso e violento tiro da fuori aria spedisce la sfera nel 7 alla sinistra di Mancini vanamente proteso in volo. Forte del vantaggio acquisito e facendo affidamento sulla solidità della propria difesa gli ospiti non trovano alcuna difficoltà a controllare la blanda offensiva del Matera affidata per lo più agli spunti individuali di Pugliese peraltro mal sorretto dai compagni di linea. Si interrompe così la serie positiva dei Biancazzurri seppure bisogna dire che l'avversario di turno era meritevole di rispetto e il che non ha consentito ai ragazzi di Conticchio di mettere sul terreno di gioco quella che si può considerare la loro arma migliore ossia la grinta in frantasi contro una migliore tecnica degli avversari una sconfitta comunque che non deve di certo intaccare i buoni propositi che il Matera ha saputo esprimere nelle ultime gare riprendendo di buona lena il cammino intrapreso verso la salvezza sin dalle prossime gare.